Ciao, noi siamo la compagnia del teatro, siamo all'interno del festival Shortyade nel progetto Fabulamundi e metteremo in scena il testo Io se voglio fischiare fisco di Andrea Vallean. La prima volta che ci capita di far parte di questo progetto di sostegno della drammaturgia europea siamo ovviamente contenti di questa possibilità, più che altro per capire anche come si sviluppa la drammaturgia fuori dal nostro paese. Il testo è un testo che è affittato in un carcere minorile, tra l'altro in Romania ma quasi a confine con la Moldania perché parte da un'esperienza reale che l'autrice ha avuto quando era studentessa. Abbiamo avuto modo di incontrare Andrea, è venuta alle prove e per cui ci ha potuto anche raccontare quella che è stata la nascita e il sviluppo di questo testo. Ovviamente Fabulamundi prevede l'incontro fra culture differenti, siamo tutti in Europa ma ci sono delle differenze anche perché il testo ha diventato migliato intanto per cui ancora delle differenze maggiori più sensibili forse erano presenti all'interno di quel tipo di società. L'incontro fra due culture, fra due modi di scrivere e di pensare anche il teatro è completamente diverso, ovviamente fa in modo che nasca la curiosità dell'altro per cui a tutti gli effetti è un incontro, noi facciamo in modo di tradurre quelle parole che abbiamo detto Andrea alle caratteristiche della cultura e la vita di questo carcere. Grazie a tutti, grazie a Fabulamundi per questa opportunità, vi salutiamo e un caro saluto dalla biblioteca. Ciao!